Ormai manca poco al fischio di inizio di questa delicatissima gara di Champions. Per la Roma sono d'obbligo i tre punti. Ma vediamo Rudi Garcia come ha intenzione di schierare la squadra. Tra i pali, Scesni. In difesa, Digne, Rudiger, Manolas, Torosidis. Centrocampo con Nainggolan, Pjanic, De Rossi, Florenzi. In attacco, Salah e Gervinio. Speriamo ci regalino gioia stasera a questi ragazzi. Speriamo. Forza Roma, forza Roma, forza Roma. Dai!